voi due siete strappitosi di eroac tua feccia è un incantum un danse sei arrapante assurdamente arrapante gnocco mi scusi ma non capisco niente di quello che dice io voglio invitarvi come miei ospiti al più esclusivo evento di moda della storia l'incredible l'incredible c'entra col matt ball no dolce stupido deriuk per la prima volta nella storia della moda tutti quelli più importanti stilisti verranno riuniti sotto un unico tetto io conto su vostra presenza con vostre gnocche arrapanti feccia